Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni al contrattacco, o meglio, all'attacco di Mario Draghi. È il decreto sostegni appena varato. Dice così, il debutto di Draghi sinistramente uguale al metodo Conte. Quindi conferenza stampa in ritardo e iniziata in coincidenza con i TG della sera. L'abordata della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, arriva subito. Impossibile poi, dice, non notare che il primo decreto economico dell'esecutivo viene presentato da un ministro tecnico e da un ministro del PD. Assenti gli esponenti del centrodestra. Sui contenuti, però, Fratelli d'Italia studierà nel merito il testo del decreto sostegni. Bene, dice l'abbandono dei codici ateico, come chiesto da sempre da Fratelli d'Italia. Dice, ma preoccupa l'annuncio di Draghi, che i ristori che le imprese aspettano da dicembre arriveranno tra non meno di venti giorni. Per di più, dice, con importi, che dalle bozze che girano rischiano di essere poco più di una elemosina. Silenzio sul cashback, che probabilmente rimane e non verrà cancellato, come chiesto da Fratelli d'Italia. Infine, nessuna pace fiscale. Cancellate solo le mini cartelle inesigibili vecchie di 10 anni. Niente ossigeno per imprese e famiglie in difficoltà. In realtà, quello che dice Giorgia Meloni ha ragione, perché si sta parlando solo di cartelle vecchie di oltre 10 anni già inesigibili e già probabilmente anche già annullate dal tempo, già in prescrizione. E così solo mini cartelle vecchie di 10 anni per chi guadagna meno di 30.000 euro. Realmente le famiglie in difficoltà e le imprese in difficoltà oggi per le cartelle esattoriali uscite fuori in questi ultimi tempi non vengono toccate e diventano assolutamente esigibili per lo Stato italiano. Sul ritardo della conferenza stampa, quella è proprio per il motivo che sappiamo, cioè che la Lega ha insistito per due ore e mezza con Draghi per cercare di ottenere proprio sulle cartelle esattoriali delle condizioni migliori, cioè volevano che erano almeno 10, addirittura 30.000 euro le cartelle da rottamare e così però non è stato. Oltre questo diciamo che a parte i ritardi sono dovuti a questi, quindi non era un ritardo realmente voluto per fare al tipo stile governo Conte. Insomma naturalmente Giorgia Meloni è all'opposizione, unico grande partito all'opposizione perché poi ci sono anche altri che sono dall'altra parte, però quello che realmente è il fatto che il sale della democrazia è proprio il criticare il governo. Il compito delle opposizioni, in questo caso dell'opposizione è quello di fare le pulci al governo. Quindi Giorgia Meloni ogni cosa la critica cercando di fare una critica costruttiva, ecco, quindi non è un criticare per aumentare i propri votanti, ma questo criticare è esattamente un'altra cosa. Nelle democrazie, come vi dicevo, il compito dell'opposizione è quello di fare le pulci a chi governa, per controllare, verificare l'operato, appunto per non permettere che si possa instaurare un regime dittatoriale dove l'opposizione non esiste e tutti fanno quello che dice il premier o il capo del governo, il capo dello Stato. E così Giorgia Meloni critica ed è questo il compito della democrazia. In alcuni stati, molti stati in giro per il mondo, che si freggiano del titolo repubblica di qui, repubblica di là, alla fine l'opposizione non esiste o se esiste è sempre d'accordo con chi governa. Quelli sono paesi dittatoriali. Naturalmente Giorgia Meloni parla anche del fatto che questi rimborsi non arriveranno prima di 20 giorni. Beh, io direi che meglio dei rimborsi che arrivano tra 20 giorni, più tardi possibile 20 giorni, che prima quelli con Conte che non arrivavano mai. Non so se vi ricordate la cassa integrazione di Conte. Probabilmente ci sono ancora persone che non hanno ricevuto la cassa integrazione. Vi ricordate? Mesi e mesi con l'Inps che diceva delle cose. Ma cosa sta dicendo? Sembravano che erano tutti d'accordo a ritardare il pagamento completo della cassa integrazione perché probabilmente lo Stato non aveva i soldi. Aveva promesso la cassa integrazione a tot numero di persone e poi non aveva i soldi. Cioè non c'erano materialmente i soldi da inviare. Ricordiamoci che lo Stato italiano non può stampare moneta. Con la lira lo Stato italiano poteva stampare le lire. Dice mancano? Stampale. Fanno inflazione e chi se ne frega? Stampale perché dobbiamo mandare questi soldi. Adesso l'Europa unita, l'Europa dell'euro, vieta ai singoli stati di stampare moneta. Se non su autorizzazione della banca centrale che ti dice stampali lì a Milano, a Roma e poi mi rimandi. Quindi un'altra cosa quella. Gli Stati non possono stampare monete. Quindi i soldi o ce li hai o non ce li hai. O li prendi a prestito. Visto che ci sono in Italia le scadenze fiscali, probabilmente io credo che lo Stato non aveva e non ha i soldi per pagare a tutti e quindi aveva fatto slittare la cassa integrazione. Non è stata pagata completamente a tutti perché stiamo lavorando, diceva l'Inps, giorno e notte ma non ce la facciamo, perché siamo pochi. Un sacco di balle. Ma il mio sospetto è sempre stato quello che i soldi non c'erano. Quindi io credo che adesso benvenga che arrivino in 20 giorni al posto che la promessa adesso arrivano e poi non arrivano mai. Quindi va bene criticare perché il compito dell'opposizione è quello di criticare. Su questo non c'è dubbio. Però io sono sicuro che Giorgio Meloni starà pensando beh dai insomma arrivano tra 20 giorni, 20 giorni e poco più di due settimane, meglio tra 20 giorni e poco più di due settimane che le promesse in stile Conte. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è assolutamente gratuita, non comporta nient'altro che un aiuto al canale ad essere più visibile. Siamo anche in Facebook e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Ci sono eventualmente per chi volesse anche gli abbonamenti al canale. È una cosa in più per aiutare il canale stesso alla sua sopravvivenza. C'è un abbonamento da un euro al mese, realmente 0,99, dove si possono vedere i video circa ore prima che vengano pubblicati, immediatamente quando io li registro, perché io li imposto a certi orari. Mentre poi c'è anche un abbonamento da 2,99, 3 euro al mese, dove si possono vedere anche dei video solo per chi paga questo abbonamento. C'è ogni tanto qualche video destinato solo a loro per chi ha tanto tempo e vuole vedere più video, ce n'è qualcuno in più. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.